L'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna ha rimandato al mittente la Synergest il progetto di finanza per la gestione e il rilancio del porto di Olbia. La società che ha gestito fino al 31 dicembre scorso i servizi all'Isola Bianca e che oggi ha in affidamento per quattro mesi l'accoglimento, ricezione, smistamento e stradamento dei veicoli in arrivo e partenza dall'area portuale, non ha ottenuto il via libera dall'ente presieduto da Massimo Deiana. La proposta presentata dalla società pubblico-privata, la cui quota di maggioranza fa capo al gruppo onorato, ha dunque ottenuto un brusco stop che in termini tecnici si chiama preavviso di rigetto, accompagnato da una richiesta di contradduzioni da presentare entro la fine del mese. Il punto di maggior contrasto riguarda l'aspetto economico, perché nel project financing la Synergest ha previsto un regime finanziario simile a quello che aveva adottato in quest'ultimi 30 anni, cioè l'incasso dei diritti portuali stimato in circa 8 milioni, con il 25% versato all'autorità portuale. Il progetto prevede inoltre investimenti superiori ai 6 milioni di euro, chiesti nella manifestazione di interesse per il paternariato pubblico-privato, così come elaborata dall'autorità portuale. In attesa delle integrazioni, la Synergest continuerà comunque ad occuparsi fino ad aprile dei veicoli in arrivo e partenza dall'area portuale, mentre la Turbo Travel SRL, sempre per lo stesso periodo, gestirà il servizio di trasporto interno su navetta dell'Isola Bianca.